quel quel ceppo lì non mi fido andar lì eh no no stiamo di qua che cazzo eh sì qua è proprio terra è andata è andata è andata di lì è andata quindi passiamo qua è già fin troppo facciamo diretto qua va bene qua avevo già pulito ok quindi scendiamo da lì o da qui anche dietro qua forse o il piantone qua gigante e poi la rimbuchiamo ok va bene quindi siamo su qua siamo scesi lui ha pulito già la quindi siamo qua in alto e vedi che sono sceso da qua io prima sono sceso dall'alto sono sceso dall'alto sono andato là ho fatto il giro però siamo quasi tanto vale che siamo qua teniamo questo così almeno buca si sono passato di qua canna della volta guarda da qua che lei fa le stradine dopo va a finire che ci troviamo gli facciamo l'autostrada cazzo proprio davanti a casa sono messo in cazzo poverino cazzo posto più esagerato cazzo noi li passiamo davanti con l'autostrada si dai scendiamo da qua va bene va bene così quindi tu l'hai fatto un po più alto tanto dopo tu mi segui no quindi arrivi lì per forza anche tu lì non lo vedi il burrone va in su tu ok giù di lì pianta scendiamo passiamo pianta morta va bene quindi questo in mezzo a rompere le balle va bene questo mettiamolo qua qua ce n'è di due ok di qua si vede dai facciamo in mezzo qui va bene e siamo arrivate le moto allora dai è un girettino abbastanza veloce questo rompe un po il marone per capire dov'è lo mettiamo qua così ci fa vedere dove andiamo così capiamo che dobbiamo passare sopra qua dai faccio e allora si è stancato di più di mente che non di fisico stamattina ma è così è il fatto che non andava che hai dimenticato si ma scusa ma come abbiamo fatto arrivare fino a qua scusa no così per dire perché questo è più facile siamo da lì no perché passiamo da dietro allora ci conviene sai che sono volato tre volte